Salve a tutti, uochi kebari e benvenuti su Five Nights at Freddy's Security Breach Se lo sapete, sicuramente lo sapete perché è ovvio A luglio esce il DLC, Ruin E ho deciso per questo unico video di provare a ritornare su questo titolo per rivivere i primi momenti del gioco Perciò adesso vado su nuova partita e io spero tanto di portarvi il contenuto aggiuntivo nella versione per PC e non per Playstation 4 Avvertimento, questo gioco contiene spaventi Tieni premuto E per saltare Bene E vai, che bellezza Freddy Fazbear Questa scena iniziale l'ho sempre trovata fantastica Con i quattro protagonisti Glamrock Freddy, Chica, Roxanne Wolf e Mongo Amerigator Stile molto anni 80 Molto figo Mongo Amerigator Sempre col suo fascino Ma per me i due migliori Glamrock sono Glamrock Freddy e Roxanne Wolf Ah, Chica, quando sei odiosa in questo gioco Ricordo l'hype E l'interesse per questo videogioco quando è uscito Peccato Che Al suo rilascio ho avuto Gravi problemi Come bug Lag ed altro Se notate Non ho messo la webcam Perché E' giusto così Anzi io sinceramente Rifiuto di utilizzare Quel dispositivo Nei FNAF Perché Anche se voi vedete I miei spaventi Ho paura di Togliere Impedirvi La visione di certe scritte E certi momenti Quindi No Adesso Glamrock Freddy Ha Un leggero errorino Non capisci che succede Attenzione Attenzione Allerta Aiuto E cada terra E' andato Adesso Glamrock Freddy Si sveglia Io vi dico che Nella versione per Playstation 4 La prima volta Il filmato Non era Partito Oh Wow No vabbè C'è Gregory Dentro La pancia Di Freddy Ragazzi Devo dire una cosa Dopo E' apparso Una roba Pixelata Ok Mi sto muovendo Ragazzi La mia prima volta Su Security Breach E' stato Su PS4 C'è una Palla Da bullying Questa Dove essere La sua ombra Street Stakes Superstar Davvero C'è un modo Per tipo Rallentare O velocizzare I sottotitoli Non credo Allora Adesso arriva Eccola Vanessa Vanessa ragazzi Sprecatissima In questo gioco Non fa nulla Eh Ok Dammelo Eccolo qua Allora Premo E La qualità E' media Per sicurezza Ve lo dico Ok Fatswatch Trovato Ok Premere Tab Tab Sempre se mi ricordo Qual è Tab Porca miseria Ah ok Sì ma sto già leggendo qua Non servono i sottotitoli Telecamere Mappa Missioni E messaggi Poi Esc per uscire Mi sono un attimo Abbassato E non so il perché Vai Mi sono aggiornata Libra Freddy Ok Ah bene Penso che vi ricordate tutti Come partiva Security Breach Ci troviamo Nella stanza Di Glam Freddy Non sapevo Il perché E adesso È il momento Di andare avanti Questo è un dispositivo Che si userà Più avanti E per ricaricare la torcia E qui c'è Il punto di salvataggio Nella versione per PS4 Oddio non mi ricordo Se l'hanno sistemata Quella roba Nessuno poteva vedere Elpi Camminare E mettere Le bandierine Si vedeva tutto quanto Sgranato A bestia Oh sì Oh sì Adesso Questo qui Serve per Glamour Freddy Per Ristabilire la sua Energia Vitale Almeno credo Adesso Control Per abbassarsi E sono Nei condotti Dell'aria Allora Eccola Roxanne Wolf Bella come il sole Eccola qua Guarda quanto è bella Ragazzi La sostanza è la migliore Adesso arriva Montgomery Gator Per i sottotitoli Spero che faranno Qualcosa Di migliore Perché Un po' Le frasi Un po' Troppo lunghe Certi aggettivi Che potono essere Anche tolti Sinceramente Giocateci In inglese Soltanto Senza i sottotitoli Questa è la stanza Di Montgomery Gator Che si è arrabbiato Perché Il suo amico Freddy Ha rovinato Lo spettacolo Mi sembra anche giusto Con Shift Si può correre Giusto Sì Adesso qua c'è Glamour Chica E Credo aver sbagliato Strada Forse Eccola Vede che si sta Esibendo La sua chitarra Elettrica Ora posso andare avanti E fuggire Via E Voilà Ok Sono unici 30 Del pomeriggio Ok Alziamoci un po' Va Fnaf 2 Fnaf Qualcos'altro Vari disegni Serve un pass Ciao Belli Questi Provengono da Oddio Era Curse of Dreadbear Giusto Credo di si Ragazzi Eccole qua Le stanze Dei nostri amichetti Qua c'è Glamrock Chica Amante delle pizze E del gelato Ed è anche Molto Molto carina Beh Porca misera Ragazzi Anche Con la qualità Media È sempre Bella Monti è troppo Arrabbiato Porca vacca Santissima E Rocks and Wolf Si sta guardando Allo specchio Almeno È quello che Sembra E Abbiamo Il nostro Freddy Che mi sta Fissando In un modo Molto inquietante Esatto Poi si trovavano Anche questi Borsoni Con dentro Dei messaggi Dello staff O addirittura Dei clienti Qui c'è scritto Festa Rovinata Reclamo Cliente Abbiamo pagato Il pacchetto Glam Freddy Mega Deluxe Party E Freddy Si è rotto Appena è salito Sul palco Avevamo pagato Per averlo Al tavolo Per cantare Buon compleanno Doveva dare lui La torta A mia figlia Le avete rovinato Il compleanno E singo Un rimborso Porca miseria Ragazzi Mannaggia Tosta Eh Le porte Che si aprono Ok Sta facendo Un caricamento Meno male Che poi L'hanno L'hanno messo Pizza 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 Ancora Altra pizza Qua Vedete Sempre pizza Figure Da Mi ricordo Come si chiama Il gioco Del Dei laser Porca miseria Mannaggia Santissima Ok L'abbiamo Trovato Pass Fotografico Ok Ora Posso andare Da Freddy Certamente Amico Questo gioco Questo gioco È stato Aggiornato Tantissime Volte Per renderlo Almeno Giocabile Eila E vai E vai Sì 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 Oh Yeah Ok Andiamo avanti Vedete C'è una batteria Ha due tacche Freddy deve ricaricarsi Se poi Freddy arriva a zero Sono cavoli amari E qua c'è stato una Un lagghettino Un attimo Perché stava caricando Immagino In realtà questa È una prova Per vedere Se riesco a registrare Massimo massimo Il DLC Sul pc Come faranno tutti quanti Del resto Vanessa No Non importa Oh yeah Esatto Ok adesso Freddy Sente che Gregory Sta male E lo porta Tipo in infermeria Non ho mai capito Sta scena Ma per di più Serve per Nascondersi Da Vanessa Prima che sia Troppo tardi Ecco che si parte In una delle scene Più memate Che I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Vanessa ha detto a Roxanne, Glamour Cheek e Montgomery Gator di cercarlo. Okay, esci. Lei è sparita nel nulla. Naturalmente Gregory esce da là e dice Ah, ma hai visto? Voleva cercarmi. Lo dice ad alta voce, sicuramente non l'avrà sentita. Va bene, andiamo. Okay, allora. Moondrop. Maledetto. Okay, a momenti Freddy dovrà ricaricarsi. Bello. Fazer Blast si chiamava. Ecco. Oh, oh, carica bassa, signori. Carica bassa. Meglio muoversi. Non voglio che muoio subito. Grazie. Carica bassa. Porco due. Va bene. Porca. E' scattato all'improvviso il signore. Okay. Ora si può salvare. Questo gioco è pieno zeppo di salvataggi. Veramente fatelo. Chi è lo stupido idiota che ha giocato a Security Breach senza mai salvare? Mamma mia. Ehm, okay. Tab. Grazie. Messaggi. Conversazione degli alimenti. All'attenzione della brigata di cucina. Tutto il cibo deve essere accuratamente conservato alla chiusura. Cica è stata trovata a mangiare cibo dalla spazzatura in cucina dopo la chiusura. Le riparazioni sono costose e saranno decurtate dai vostri stipendi. La direzione. Mizzega cattivelli, eh. Si sente un rumore. Oh, è Cica. Maybe I could distract her with something. Distrazione. Okay. Mi sta seguendo, vero? Okay, vai, 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 vai. Bene, bene, bene. Perfetto. Ed è fatto. Oh boy. Qua non si vede un cavolo di niente. Se abbiamo anche la corsa da fare e Gregory si stanca facilmente, sicuramente c'ha l'asma. Allora. Un po'. Apri quest'altra porta, bene. Eccolo qua. Altro autosalvataggio. Salva quanto vuoi, va. Eh, adesso c'è Montgomery Gator, me lo ricordo. Eh, sì. Adesso lui spunta qua, eh. Guardate. Eccolo, eccolo. Corri, bro, corri. Veloce. Porco due. Non ci sono. Non ci sono, bastardo. Poi c'è anche Roxanne Wolf, l'ho sentita, eh. Let's go. Allora, posso dire, fa ancora paura. Scappa, 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 bro, scappa. Cazzo, stanno arrivando. Stanno arrivando, stanno arrivando. Veloce, bro. Devo riuscire a superarli. Eh, porca miseria. Mi vogliono prendere. Ecco Montgomery che sta aprendo la porta. Protocolli di sicurezza, d'accordo. Ok, le telecamere sono pronte. Eccole qua. Qua c'è Montgomery. La mochica è andata via. Non penso che serve un altro salvataggio. Ok, qua piano. Qua bisogna nascondersi. Armadietti, passeggini, scatole. Di tutto e di più. Ok, la sto sentendo dall'altra parte. Raga, eh. Oh, porca di quella porca. Via, 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 via. Oh mio Dio. Ok. L'ho evitata. Ed eccoci qua. Sono le 12 del mattino ora. Le porte si chiudono. Eh. Trova un percorso sicuro verso l'ingresso principale. Esatto. Il gioco si svolge in una sola e unica notte. E... È diviso nelle notti. È quindi praticamente è One Night at Freddy's Security Breach. È davvero? Ok, pass preso. Mega Pizza Plex. Eh, c'è la marcicola. Piano qua. Fammi aprire lui, per favore. Non venire addosso, pezzo di cacca. Vorrei... ...leggere il messaggio, per favore. Soldi facili. Mio cugino lavorava qui. Mi ha detto che le calamite mandano in tirte le macchine dei biglietti. Vai al Fuzzpad. Puoi raggiungere il servizio clienti dalla porta posteriore e prendere un bel blocchetto di biglietti. Ti aspetto fuori. Se senti dei robot, nasconditi finché non vanno via. Andrà tutto bene. Chi è che mi ha scritto questo messaggio esattamente, ragazzi? Perché non lo so. Ok. Ci alziamo, per bene. E Glamour Chica? Dove cazzo è? Dove è Glamour Chica? Scusate. Oh, bontà divina. Oh, boy. Gregory non c'è. A Stronsna. Via. Porco due. Piano, 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 raga. Misericordia. Oh mio Dio. Fa ancora paura. I flashback di security list stanno tornando. Entra dentro. Sta arrivando. Non penso che Chica senta la voce di Freddy, vero? Non si rientra. Hacker è il macchinario di potenziamento. Ok. Sono uscito fuori. Uso questo. E ora mi concentro per andare dall'altra parte. Mamma mia. Cioè, ho impiegato le ore qui. Porca vacca. All'inizio, vi ricordate? Che, ehm... I robot non potevano trovarci subito. Erano praticamente dei idioti. Erano stupidissimi. Lei si sta spostando da quella parte. Vedete? Poi possiamo anche zoomare, se vogliamo. Ok. Adesso io, raga, esco fuori. Mi alzo. E vado. Ah, il Daycare. Chica è proprio drogata di brutto. Ecco. I staffbot. Porca vacca quanto erano fastidiosi da morire. Stiamo cercando in tutti i modi di evitarli. Erano il male di questo gioco come gli endoscheletri. Bene, bene, bene. Pizza! Adesso c'è la calamita di Mr. Hippo, è vero? Questo video contiene spoiler perché tanto il gioco è uscito nel 2021. No, poverino. No. No. Ok. Così, dispiace. Ora devo tornare invece dall'altra parte. Quindi. Calma, il cicca è di là. Scale mobili. Bene. Bene. Sto prendendo la mano, eh. Bene, 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 bene. Adesso io torno qua. Eh, porca vacca potrebbe... Poteva prendermi quel bastardo, è vero? Non ci sono. Non ci sono. Vai, corri, corri, corri. Bravo, bravissimo. Ora giù. Qui non c'era nessun salvataggio da fare, eh. Vai, calamita. E vai. Perfetto. Perfetto. Allora, per far prima, ragazzi, torno sopra. La cucina. Ok, qua vedete che c'è una borsa. Eh, questo è un difetto. Bisognava per forza alzarsi per prenderle. Aspetta, semmai mi abbasso un attimo, per sicurezza. Ok. E qua, però, devo riuscire a superare il FuzzBot. Sarà un pochino difficilotto, forse. In realtà non è vero per niente. Dov'è Glamour Chica? Dov'è Glamour Chica? Dov'è? Dov'è? Non importa, devi andare. Decker. Eccolo qua. Bene. Si sentono dei rumori dai bagni, eh. Qua c'è un'altra borsa. Reclamo cliente. Mio figlio non ha mai avuto problemi a dormire, ma da quando ha trascorso una sera l'asilo nido, si rifiuta di dormire senza una luce accesa, piange senza sosta. E anche se gli lascio la luce accesa, bagna il letto. Accidenti. Ebbè, certo. Chi è? È Moondrop. È lui. Oh, in questo gioco l'acqua comunque era fantastica. Ed è giusto da dire. Caricamento. E sono arrivato al day girl. Vai, scivola. Questo è uno dei momenti più ostici del gioco. Ciao, Kellen Goff. Bello vederti. Eccolo, sta arrivando. Hello. Certo. La cosa brutta è che Sun and Moon, specialmente Sun, non si vede tanto nel gioco. Allora, fate una cosa importante. Salvate subito. Fatelo. Dovreste saperlo, eh. Questo è tipo un rigiocare a Security Breach. Dammi questo. Badge di sicurezza. Con questo possiamo attraversare porti inaccessibili. con la glitter. No, non mi interessa. Adesso, ragazzi, arriva Moondrop. Comunque, il tieni premuto E per saltare messo lì non mi piace. Però la gente lo fa. Però è stato messo perché così... Come dire? Si può saltare questa scena inquietante? E io adesso lo salto perché sì! Tanto è già finita subito quindi bang! Allora. Raccogli, perfetto. Allora. Come si fa? Ah, ecco. Error. Non si può più usare. La torcia bisogna ricaricarla e il salvataggio non è più disponibile. Adesso, fate una cosa importante. Fate cadere più di questi cosi. Per favore, fatelo. Adesso sto a ricordarmi bene che cavolo bisognava fare qua. Odio questa parte. La odio con tutto il cuore. Adesso sì, poi hanno messo che i generatori hanno il cavo colorato. Prima non era così ed era praticamente impossibile superarlo al primo tentativo. Porca vacca ragazzi, però sta parte a me fa schifo al ca. Clean up, clean up. Porca vacca raga. Ogni ostacolo che trovate ragazzi, già subitissimo. Fate questa cosa, vi prego. Allora. ci sono cinque generatori. Un momento dovrebbe dire it's past your bad time. Almeno questo è quello che penso. Allora, quella là ci si arriva in un altro modo, almeno credo. Bene, mi sono già perso, porca di quella vacca. Oh, porca. Eh, vabbè, mi ha preso. Accidenti, me lo sono trovato davanti. Questa, ragazzi, questa era veramente brutta, eh. Questa è veramente, era veramente, 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 veramente brutta sta parte. Mamma mia. Sapete una cosa, ragazzi? Abbandoniamo. Io, gente, concludo qua questo video. mi è servito per riprovare a giocare a Security Breach e non, sicuramente, ragazzi, non voglio rifare un'altra serie. La let's play è già stata fatta nella versione più brutta, quindi il DLC ve lo porterò sul PC. Nei commenti scrivetemi se avete provato a rigiocarlo, se vi sta piacendo di nuovo, se avete notato che ormai è un gioco che si può giocare oppure, no, è ancora pieno di bug per qualcuno. Non lo so, ragazzi, non lo so. Bene, questo è il mese di Ruin, prepariamoci perché sarà emozionante oppure sarà una mega delusione, vabbè. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao ciao. Ciao.